Finiamo la presentazione dei concorrenti al settimo festival pro organizzato da... Buonasera, che mi dai nato? No, no, al cantante mio ce penso io Va bene Ricordate, Fernet Branca non ha tradito mai una digestione Fernet Branca Ti assicuro che è una bomba! Io che l'ho sentito alle prove sono rimasto scioccato, colpito, elettrizzato Così come sono certo che accadrà a tutti voi, amici miei Ecco voi per la prima volta a Roma Nico doppio zero E le sorelle ricotta! Ciao! 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 Vi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.